Tutto potrebbe essere messo in discussione se si tornasse alla gestione integrata dei rifiuti, ne è convinto più di un amministratore della riviera dei Cedri. Il problema è tutto concentrato in due sigle che fanno inorridire gli addetti ai lavori, Ato e Aro. L'Ato, ambito territoriale ottimale, coincide con l'intero territorio provinciale. A sua volta la circoscrizione viene suddivisa in Aro. Ossia sotto ambiti di raccolta ottimali. Per ogni Aro vi sarà un comune capofila e un'unica società si occuperà della gestione dei rifiuti. Per molti il nuovo sistema approvato con la legge regionale del 2014 è un ritorno al passato. Basta andare indietro di qualche anno ai tempi della società Alto Tirreno S.P.A. Ma cosa potrebbe accadere però nel breve periodo? Da quanto ci è stato spiegato da alcuni amministratori, i comuni che andrebbero incontro a delle difficoltà sono quelli dove i contratti di gestione stanno per scadere e che dovranno affidare il servizio attraverso una nuova gara. Tra questi c'è Tortora dove la gestione della progetta ambiente finirà a ridosso dell'estate. Il consigliere di maggioranza con delega all'ambiente Franco Chiappetta è convinto che difficilmente la gestione integrata dei rifiuti entrerà in vigore in questi mesi. Si procederà quindi con una regolare gara di affidamento. Il problema è però un altro. Nel momento in cui il nuovo sistema entrerà in vigore, ogni nuovo contratto decadrà immediatamente e bisognerà passare a una nuova gara di affidamento per tutti i comuni dell'Aro. Ma a tenere sulle spine gli amministratori non è tanto a chi verrà affidato il servizio, ma come verrà gestito. Come detto, basta andare a qualche anno fa allo sfacelo generatosi con l'ATC-ASPA a spaventare anche l'aumento dei costi che in questi casi non diminuiscono, ma li evitano. Il vice sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Matteo, è stato ancora più chiaro. Siamo davanti all'ennesima porcheria che spazzerà via tutti i buoni risultati finora raggiunti nella raccolta differenziata. Inoltre, quando questi sistemi si insediano, è molto difficile che dei privati seri e qualificati partecipino. Il più delle volte si creano delle società ad hoc, quelle che in gergo apostrofiamo come carrozzoni.